ciao sono william bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parliamo di poso in opera senza opere murarie ovvero in ristrutturazione quindi sostituzione degli infissi esistenti la maggior parte delle volte che leggi questo senza opere murarie vuol dire praticamente che chi ti fa gli infissi prende il nuovo infisso e te lo monta sopra il vecchio non ci vediamo più ero che praticamente ti rende la casa buia la casa brutta perché ti mette dei colpi fili dormi e ti rende la finestra instabile perché una cosa nuova attaccata su una cosa vecchia darà sempre un sacco di problemi per dire per sempre ma c'è un modo per non avere questi tre problemi il modo si chiama sistema bisacchi è il sistema che ho inventato per sostituire gli infissi che ti permette di non perdere luce di non avere coprifili orrendi quindi avere una casa più bella di prima ti permette di non avere nessun tipo di problema di stabilità l'infisso rimane rimane senza problemi di cedimenti nel tempo e questo sistema è garantito tre volte una mia triplice garanzia se vuoi saperne di più vai sul mio blog e fai una richiesta di assistenza ciao e al prossimo video